Gentili telespettatori, buona giornata. Decreto sostegni bis dai ristori alle agevolazioni sulle tasse. Vediamo la bozza di questo decreto che sta per nascere. Tra le misure i nuovi ristori per partite IVA, sconto su affitti dei negozi prorogato al 31 maggio e la proroga del lavoro da casa fino al 30 settembre. Nei nuovi ristori per le partite IVA, proroga sconto sugli affitti dei negozi, slittamento della plastic tax, aiuti e contributi per famiglie in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto legge e sostegni bis circolata in queste ore che le agenzie di stampa hanno potuto visionare. Sono 48 articoli, di cui 10 sono senza testo. Tra le misure che sono state già definite ci sono i nuovi ristori per le partite IVA, che valgono 11,1 miliardi, lo sconto sugli affitti dei negozi prorogato al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il 2.021, che vale 600 milioni, la proroga del lavoro da casa nelle aziende private fino al 30 settembre lo slittamento di altri sei mesi della plastic tax che entrerà in vigore nel 2022. E poi si prevedono altri due mesi di REM allargato, reddito di emergenza, con norme che consentono di accedere più facilmente al sostegno economico. Per le famiglie in difficoltà vengono stanziati 500 milioni di euro per aiuti alimentari e contributi per gli affitti. Per i giovani under 36 che intendono acquistare la prima casa è prevista l'esenzione delle imposte indirette di bollo e catastale, mentre pub, bar e ristoranti non pagheranno il canonerai per il 2021. Ben dieci articoli hanno solo il titolo, mentre manca il testo, tra cui anche norme molto attese come quelle su Alitalia, ma anche le misure per il settore ferroviario, per la scuola e il trasporto pubblico locale, senza dimenticare il capitolo vaccini internazionali. Per quanto riguarda le partite IVA, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza, si legge nella bozza, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si legge, la misura viene erogata automaticamente a tutti coloro che hanno già beneficiato dei ristori erogati con il primo decreto legge sostegni e saranno di pari importo. Aiuti alimentari e contributi per affitti delle famiglie. C'è un fondo da 500 milioni per misure di economia sociale per le famiglie, nella fattispecie aiuti alimentari, contributo per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche, secondo quanto prevede una bozza del decreto sostegni bis. Il decreto proroga inoltre il reddito di emergenza di altri due mesi, giugno e luglio. Tra le altre norme della bozza, anche le agevolazioni in materia di imposte indirette e per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36. Poi c'è lo sconto sulla tassa dei rifiuti del 2021. Sono più di 600 milioni per i comuni per le agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti, in relazione per durare dell'emergenza al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate, delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Finalizzato, appunto, dicevamo, finalizzato alla riduzione della Tari. Si legge. Poi c'è anche la plastic tax. La bozza stabilisce inoltre il differimento dell'entrata in vigore della plastic tax al primo gennaio del 2022. Sul fronte del lavoro da casa, inoltre, il testo prevede una proroga al 30 settembre per il settore privato. Stop all'immu di giugno per le attività beneficiari dei ristori a fondo perduto, secondo quanto prevede la bozza del decreto sostegni bis. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Costo dell'operazione è 216 milioni di euro per il 2021. Le novità poi sui fondi per i mutui per la prima casa. Viene esteso al 31 dicembre. Quindi la proroga al 31 dicembre 2021 delle deroghe per l'accesso al fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima. Si legge ancora nella bozza che estende la durata e conferma l'accesso al fondo Gasparrini ed una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il fondo sul presupposto della permanenza su questi soggetti delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal governo per il contenimento della diffusione. Poi ci sono anche delle misure antiliste attese prorogate al 31 dicembre del 2021. C'è scritto così tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza sono prorogate dal decreto leggi sostegno bis secondo quanto si legge nella bozza al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dal cosiddetto decreto legge agosto mirate ad abbattere le liste di attesa causate da ritardi nell'assistenza sanitaria dovute alla pandemia. Regioni e province autonome che secondo l'articolo 32 del documento potranno aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020 attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dell'articolo 29,2 e del decreto legge 104 2020 ovvero attraverso prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del servizio sanitario nazionale nonché attraverso il reclutamento in deroga i vicenti contratti nazionali del settore attraverso assunzione a tempo determinato di personale del comparto della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa possibilità prevista anche per le prestazioni ambulatoriali attraverso le prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti nonché l'incremento del monte ore dell'assistenza specializzata ambulatoriale convenzionata interna ci sono anche 100 milioni in più per il 2021 per le prestazioni di sanità privata poi ci sono quasi 50 milioni in tre anni per i controlli su ex pazienti covid 61 milioni a fondo per tutto a società sportive per fare i tamponi poi c'è la garanzia obbligazioni small mid cap piani strategici ci sono 16,5 milioni per i vaccini e farmaci in stabilimento di firenze questo è tutto quello che c'è nella bozza con delle interessanti novità per gli italiani meglio questo ovviamente che nulla io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata se volete ci vediamo per un altro video tra una ventina di minuti sempre qui su tele italia arrivederci a tutti grazie e buon proseguimento di giornata ricordatevi che ci sono anche gli abbonamenti al canale con dei piccoli vantaggi arrivederci a tutti